Ciao a tutti e benvenuti in questo nuovo tutorial. Oggi volevo mostrarvi un modo, ossia un sito, che ci permetterà di mandare gratuitamente, questa volta, messaggi gratis verso tutti. Il sito si chiama Skebby. Non molti di voi lo conosceranno e molti no, ma funziona così allora. Il sito sarà ovviamente linkato nelle descrizioni. Questa è una pagina sola. Scriviamo qui il nostro numero. Qui il testo del messaggio. 120 caratteri massimo, quindi devono essere abbastanza corti. E possiamo inviare fino a 3 messaggi al giorno. Cliccando qui. Poi al secondo ci sono delle varie promozioni, due messaggi se vai su Facebook, gli amici su Facebook. Servizio invia un SMS gratis al giorno verso i cellulari italiani. Solo qui. Uno. Se dovete inviarne tre, vedete come fare, vi dovete registrare. Questo era un tutorial veloce, giusto per farvi conoscere l'esistenza di questo sito. Ci vediamo al prossimo tutorial. Ciao. Grazie.